Bello, è vero? Quello è grampo, quello che sta in fondo, vedi? Quello a scuro. Questo qua. Sai che questo qua mi dà tanto a tutti. Ma perché quella nuova nuova? Sta giocando. È un gioco dell'unico. Eccolo qua, eccolo qua, vedi? Si può salutare, guarda. È un po' ferita, le ferite sue ufficiali. Questo qua. Non mi dico della storia preciso, ma mi sembra che l'hanno salvato dalle reti, se vi ricordo. Che sono tutti i segni delle reti, vedi? È enorme, sta qua. Continua di lato. Eh, se sennò è un... Grazie.